Mi trovo a Domignano, in località Cerreta, presso Villa Franca, una struttura tutelare per persone non autosufficienti. Sto per incontrare sia i titolari di questa struttura che i vari dirigenti e coordinatori per trarre un bilancio delle attività che vengono svolte e soprattutto legate all'emergenza Covid-19. Come sta andando questa emergenza Covid qui appunto nella vostra struttura? Voglio dire il lavoro, le attività come stanno procedendo? Proseguono perché fortunatamente diciamo siamo riusciti a contenere e a tenere marginato il virus. Le attività ovviamente continuano sempre come anticipato ovviamente dai nostri collaboratori con tutti i presidi possibili e immaginabili, con tutte le attenzioni del caso che ci vogliono. Siamo contenti perché siamo riusciti comunque a contenere il virus, a tenerlo lontano e continuiamo a tenere alta l'attenzione perché ancora non si è sconfitto purtroppo. Tanta attenzione presso tutti gli ospiti e molto rigore nei confronti delle visite da parte dei parenti. Non solo ma anche per i dipendenti c'è molta attenzione e molto rigore perché ognuno di noi torna a casa propria quindi cerchiamo di arginare anche nelle nostre case il pericolo Covid perché poi comunque dobbiamo avere contatto con gli anziani. Contatto con gli anziani nel vero senso della parola perché in un lavoro del genere non puoi mantenere le misure della distanza perché loro dipendono da noi in tutto e per tutto. Comunque noi siamo le loro mani, le loro gambe e allora dobbiamo tenere sempre l'attenzione alta. come già detto prima lo facciamo tutto a nostre spese perché niente ci è dovuto a noi come struttura. Modalità di accesso a questa struttura per chi voglia far seguire i propri cari? Allora per chi fosse interessato a portare un proprio caro nella nostra struttura ci può contattare telefonicamente oppure tramite mail, siamo sempre disponibili per qualsiasi informazioni. la pratica, l'iter da seguire lo spiegheremo noi ad ognuno di loro e sempre con le distanze siamo comunque molto disponibili perché abbiamo lo spazio dove possiamo metterci a parlare anche con le distanze consentite dalla legge. Quindi per qualsiasi informazione siamo disponibili sia telefonicamente, tramite mail oppure qui di persona con un appuntamento. Sì, per chi dovesse essere dimesso dall'ospedale ma già ospite della nostra struttura nonostante il tampono il sierologico che sia negativa noi abbiamo predisposto un piano dove li ospitiamo, dove gli facciamo fare una quarantena preventiva nonostante la negatività proprio per preservare tutti i nostri ospiti. Idem per chi volesse accedere alla struttura nonostante le modalità di accesso sono con tampono sierologico e nonostante la negatività, ripeto, noi facciamo fare questa quarantena preventiva proprio per preservare tutti gli ospiti. Non mi resta che salutarvi, quindi Villa Franca, località Cerita di Omignano, una struttura, lo facciamo dire alla dottoressa. Una comunità tutelare per non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. Dove i vostri cari potranno trovare le giuste attenzioni soprattutto in questo particolare periodo legato all'emergenza Covid. Io vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo appuntamento per trarre un bilancio delle appunto attività di questa bellissima struttura. Grazie a tutti.